Da un punto di vista geografico, la cittadina di Grado punta più verso Trieste che verso Venezia. Se si considera però l'amichevole di ieri fra l'umana Reier Venezia e l'Alma, palla canestro Trieste, svoltasi proprio nella cittadina lagunare, sotto il profilo sportivo si può azzardare che Grado ha puntato questa volta decisamente verso Venezia rispetto a Trieste. E di 80-54 il risultato della prima semifinale della 14esima edizione del torneo Città di Grado, giocata ieri fra la Reier e l'Alma, con i Veneti che attraverso talento ed esperienza hanno rispettato il pronostico, archiviando la pratica contro i Giuliani, i quali hanno retto bene durante il primo quarto per poi cedere il passo ai canestri di Huggins, McGee e compagni. Avvio di gara molto intenso, da una parte sugli scudi Yavonte Green in entrambe le fasi, dall'altra Huggins, abile a far valere lo strapotere fisico, inchiodando tre schiacciate nei primi quattro minuti. Alla grande intensità non fanno da contraltare scelte offensive sempre azzeccate, si viaggia punto a punto e non si segna moltissimo. Dopo un primo quarto tutto sommato equilibrato, la Reier nella seconda frazione trova buone soluzioni offensive e con un parziale di 13-2 raggiunge il massimo vantaggio sul 35-17 grazie a un canestro di Brahmos. Trieste però ritorna in partita accorciando con Bossi, Baldasso e Parks che riducono lo svantaggio in chiusura di metà gara 44-33. Distanze quasi mutate durante il terzo quarto con punti da entrambe le parti che sfociano col risultato di 63-47 per i Veneti. Con l'ultimo periodo però Venezia allunga e chiude la contesa mettendo a referto 17 punti contro i soli 7 dei triestini. Questa sera appuntamento fissato nuovamente alle 20, sempre al Palasporto di Grado, dove l'Alma affronterà l'APU GSA Udine nella sfida volevole per il terzo e quarto posto della competizione.